Lo sviluppo integrale è la strada del bene che la famiglia umana è chiamata a percorrere. Con queste parole Papa Francesco ha colto i partecipanti al convegno per i 50 anni dell'enciclica Populorum Progressio del beato Paolo VI. L'evento, promosso dal nuovo di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ha permesso al pontefice di chiarire il significato di sviluppo integrale. Anzitutto vuol dire integrare i diversi popoli della terra, un dovere di solidarietà e condivisione che consentirà all'umanità un futuro di pace e di speranza, offrire modelli praticabili di integrazione sociale perché nessuno è escluso dall'apportare qualcosa per il bene di tutti, integrare nello sviluppo tutti quegli elementi che lo rendono veramente tale, uno sviluppo insomma che tenga conto che la vita umana è come un'orchestra che suona bene se i diversi strumenti si accordano e seguono uno spartito condiviso da tutti, integrare tra corpo e anima e integrare la dimensione individuale e quella comunitaria. È innegabile che siamo figli di una cultura, perlomeno nel mondo occidentale, che ha esaltato l'individuo fino a farne come un'isola, quasi che si possa essere felici da soli. D'altro canto, non mancano visioni ideologiche e poteri politici che hanno schiacciato la persona, l'hanno massificata e privata di quella libertà senza la quale l'uomo non si sente più uomo. A tale massificazione sono interessati anche poteri economici che vogliono sfruttare la globalizzazione, invece che favorire una maggiore condivisione tra gli uomini, semplicemente per imporre un mercato globale di cui sono essi stessi a dettare le regole e a trarre i profitti.